E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Stavolta non mi trovate in un gioco, però volevo consigliarvi un po' delle attrezzature, degli oggetti da poter acquistare. Quindi se vi piace questa idea di questa serie nuova che porto, scrivetelo qua sotto ai commenti e lasciate un mi piace. Come prima cosa, volevo portarvi un po' degli accessori per riguardanti i video e la fotografia. Da attaccare sopra la vostra telecamera, oppure la vostra reflex, e così da avere magari una qualità maggiore. Allora, partiamo dal primo e vi mostro questo di qua, il Rode VideoMicro, che comprende il microfono, che con l'attacco jack, come potete vedere, è nella confezione così. Una cosa buona è quella che ha il dead cut, è già incorporato e non lo dovete tipo comprare a parte. Per il mio microfono costa 35€, che è il Rode Dry Coat. E sinceramente questo di qua, il VideoMicro, è nettamente superiore a quello che ho io. Per adesso sto registrando col microfono il Samsung Meteor. Tutta la mia attrezzatura la trovate qui sotto in descrizione. Se dovete acquistare qualcosa, vi ricordo di farlo dai miei link, così da potermi supportare e così aumentare la qualità del canale. Attenzione a questo microfono perché questa parte, questa parte che tiene il microfono, è molto debole e quindi è facile che si rompa. Passiamo al secondo oggetto da poter acquistare. Questo di qua è un faretto LED, con 48 LED, per illuminazione ottima e una diffusione. Questo di qua lo vendono direttamente con i diffusori, che può essere sia con luce calda che con luce fredda. Che fanno diventare la luce sia calda che fredda. Costa 20,98€, a volte ci può essere qualche offerta e prendetela. Che comunque questo di qua è un accessorio molto fondamentale per avere magari una luce diretta. per avere una luce diretta ed è molto maneggevole e si può portare in giro ovunque. Se non vi basta questa luce potete acquistare questa di qua, della Neewer, che ci sono tre dei bondelli disponibili. Uno da 126 LED, uno da 160 e uno da 260 LED, che costa rispettivamente da 30€ alla fine tra il 126 e il 160 è 1€ di differenza, 2€ di differenza. E quindi a questo punto prendi il 160 LED. Però io appena posso prendo il 260, così magari da avere un'illuminazione migliore. Questa luce può essere alimentata sia a batteria che con un alimentatore a 12V. Quindi passiamo alla batteria da prendere, che è questa patona. Che questa patona potete portare tranquillamente in giro, così è molto più comoda e anche dura. Infine vi volevo mostrare un po', vi volevo consigliare questo di qua. Che serve questa staffa per microfoni, per luci, come per esempio potete collegare sia il microfono che la luce oppure un'altra cosa. In più, tutta nella stessa camera, sopra la camera, perché la camera ha assolutamente una slit e questa di qua la triplica. Molto più comodo. Ok ragazzi, questi video saranno proprio brevi, magari per farvi vedere i prodotti migliori a un prezzo migliore, come qualità prezzo migliore prodotto. E trovate qui sotto in descrizione tutti i link dei prodotti. Quindi se volete supportare il canale acquistate questi link, per voi è gratis e non cambia nulla. Quindi iscrivetevi se vi è piaciuto questo video, se volete altri video di questo genere, magari con una fascia di prezzo e una categoria di prodotti diversa. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!